Musica Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Un fiume di ragazzi che chiedono una cosa soltanto, poter andare a scuola. C'erano tutti gli studenti del luceo Renato Caccioppoli di Napoli a sfilare in città per chiedere che non cali l'attenzione sulla loro scuola e su tutte le altre scuole. Il Caccioppoli la scorsa settimana è stato preso di mira dai malviventi che hanno arrecato non a pochi danni all'istituto. Nei giorni di chiusura della scuola per le feste natalizie, dal liceo Caccioppoli di Napoli i ladri hanno portato via 34 termosifoni. Tra lavagne luminose, pc e cavi elettrici, la lista di furti del liceo di Via Don Bosco però è lunga, tale da provocare a rientro dalle feste lo spostamento delle lezioni nel vicino istituto Galiani. In sei mesi abbiamo avuto cinque furti diversi, da luglio fino a dopo le feste di Natale, ossia non abbiamo potuto riprendere le lezioni normalmente e ora abbiamo fatto di festa lunedì e martedì. Ora speriamo che un'altra scuola ci ospiti per continuare le nostre lezioni e finire tutto il programma come stabilito dal Ministero. Sono venuti circa 4-5 volte a derubarci, la prima volta solo cavi elettrici, l'ultima volta hanno anche rubato i termosifoni, i computer, anche nella scuola abbiamo un piccolo bar, hanno derubato anche delle attrezzature del bar. Noi studenti ci sentiamo comunque arrabbiati perché ci stanno levando il nostro diritto, cioè quello di andare a scuola e poter studiare. Al loro fianco, nel corteo di protesta che hanno organizzato questa mattina, anche i docenti e la dirigente Roberta Tagliaferro. Ci siamo sentiti di essere al loro fianco e con noi tantissimi dirigenti scolastici perché in fin dei conti questa manifestazione di solidarietà al fianco delle istituzioni è una manifestazione che vuole essere contro qualsiasi forma di illegalità. Solidarietà agli studenti del Caccioppoli è arrivata anche da altre scuole superiori della città. A partecipare anche i ragazzi del liceo Cuoco di Via Foria che hanno sfilato anche per chiedere sicurezza dopo l'episodio di violenza che ha visto vittima il loro compagno Arturo, il 17enne vivo per miracolo dopo essere stato accoltellato alla gula da una baby gang. Non è solo Arturo, noi sicuramente essendo un ragazzo della nostra scuola e ogni scuola è come una comunità, siamo molto vicini ad Arturo, ma l'emblema della situazione non è Arturo in per sé, ma è quello che è successo ad Arturo, il fatto che sarebbe potuto capitare a ognuno di noi e ad altri. Dopo lo sgomento e la rabbia iniziale nei ragazzi è stato il desiderio di riscatto, lo dice Adele Barile, dirigente scolastica del liceo Cuoco, l'istituto frequentato da Arturo, il ragazzo accoltellato lo scorso dicembre a Napoli. Questo desiderio di riscatto li ha accomunati e ha fatto sì che prendessero coscienza di una realtà che non potevano lasciare nelle mani di una criminalità più o meno organizzata. È partita da loro una riscosta dagli studenti direttamente in direzione di un riappropriarsi del loro futuro. Nei giorni successivi all'aggressione, ha raccontato la preside, i ragazzi hanno incontrato prefetto e questore per chiedere maggiore sicurezza e dare la loro disponibilità a collaborare. Furto anche in una scuola di nocera inferiore. I ladri sono entrati, è suonato l'allarme e loro hanno distrutto questa scatola che faceva suonare l'allarme alla scuola. Per non farla suonare, ci sono delle persone più sfortunate che diventano ladri. Brutto risveglio per la scuola paritaria dell'infanzia arcobaleno di nocera inferiore. I gnoti si sono introdotti nella struttura di via Raffaele Grimaldi ed hanno rubato l'incasso delle rette scolastiche. Da quanto si apprende, pare che i ladri sapessero come muoversi, approfittando del lungo weekend dell'epifania. Una volta all'interno della scuola, i ladri hanno immediatamente messo fuori uso l'allarme, staccando la corrente, introducendosi poi nell'ufficio del dirigente scolastico dove hanno prelevato il denaro all'interno della cassaforte. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di nocera inferiore guidati dal comandante Francesco Mortari e gli uomini della sezione scientifica. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza, probabilmente ancora in funzione prima del distacco della corrente. Il mio e il nostro soprattutto è un appello nell'augurio di una maggior sicurezza perché al di là del danno ingente che c'è stato alla struttura, il danno economico che purtroppo abbiamo subito, ripeto il mio è un appello, auguro che a nessuno possa accadere quanto accaduto. Una baby gang composta da giovanissimi tra i 14 e i 17 anni è stata intercettata e bloccata dalla polizia di Stato a Torre Annunziata nel corso di un servizio di controllo nel quartiere Provolera e poliziotti di una volante del locale commissariato. Si sono imbattuti in due scooter a bordo dei quali vi erano i quattro giovani che alla loro vista hanno invertito il senso di marcia per sfuggire. I ragazzi sono stati bloccati identificati. Il più giovane del gruppo, nipote di un pregiudicato del luogo, nascondeva una pistola in metallo modello 92. Perfetta replica di un'arma da sparo del tipo calibro 9x21, completa di caricatore, al cui interno vi erano 5 cartucce a salve, di cui una alloggiata in camera di scoppio. I due conducenti sprovvisti della patente di guida, perché mai conseguita, non chiede la prescritta copertura assicurativa, sono stati sanzionati ai sensi del codice della strada con il conseguente sequestro amministrativo dei due ciclomotori. Per due anni hanno subito minacce e tangenti. La prima volta nel settembre del 2015 consegnarono al clan Vigilia 1.800 euro. Dallora nessuna tregua e quanto i titolari di una ditta di panificazione hanno provato a dire no. Gli affiliati hanno detto che avrebbero fatto saltare in aria i punti vendita aziendali. Sei persone appartenenti a un clan camorristico di Soccavo, quartiere di Napoli, sono state arrestate con l'accusa di estorsione a una ditta di panificazione. I provvedimenti cautelari in carcere messi dal giudice distrettuale per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale DDA, sono stati seguiti dalla squadra mobile di Napoli. Per due anni hanno subito minacce e tangenti. La prima volta nel settembre 2015 consegnarono al clan Vigilia 1.800 euro. Dallora nessuna tregua e quando i titolari di una ditta di panificazione hanno provato a dire no, gli affiliati hanno detto che avrebbero fatto saltare in aria i punti vendita aziendali. C'è questo dietro i sei arresti scattati oggi. Le ordinanze di questo dia catolare in carcere sono state eseguite dalla squadra mobile di Napoli, con la collaborazione del commissariato di polizia San Paolo, a carico di Pasquale Vigilia, Cristian Monaco, Lugitesta, Francesco Allegretti, Antonio Divano, Giuseppe Mazziotti e Raffaele Granatiglia, appartenenti tutti al clan Vigilia di Soccavo, ritenuti responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini coordinate dalla locale DDA hanno documentato più condotte estorsive messe in atto dal 2015 e dal 2017 dal gruppo Malavitoso, che fa capo a Pasquale Vigilia, ai danni dei titolari della ditta del quartiere di Soccavo. Vivendo nello stesso quartiere, le intimidazioni avvenivano ovunque, presso le abitazioni degli imprenditori, ma anche in strada o nei punti vendita. La relazione illustrativa dell'assessore al bilancio e la dibattito generale sono stati al centro della prima parte dei lavori del Consiglio Comunale, preseduto da Alessandro Fucito. L'assessore Enrico Panina ha illustrato la delibera che propone al Consiglio la fissazione della nuova durata, 20 anni, del piano di riequilibrio. Va dato atto dell'impegno del Governo, di tutti i gruppi parlamentari e delle commissioni per ottenere questo risultato, frutto di un impegno straordinario di attenzione alla situazione dei comuni in prediscesso insieme a questo ringraziamento, ha detto Panini, va affermato con determinazione che queste norme hanno un luogo di origine a Napoli e nell'intenzione del sindaco che tra luglio e agosto ha avviato una discussione che ha posto l'attenzione politica e la situazione dei comuni in prediscesso, una battaglia conseguita insieme a Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni. Dopo le relazioni degli assessori e del sindaco, il Consiglio Comunale di Napoli stamane si è riunito nuovamente per dar voce, questa volta, ai consiglieri. Quello andato in scena ieri è stato un po' un processo biss alla giunta. Il sindaco ha voluto, infatti, far parlare all'aula la sua squadra per responsabilizzarla su ciò che non va in città. Un processo, insomma, dopo quello del 29 dicembre, quando il sindaco disse che la sua giunta aveva un altro passo, troppo lento rispetto al suo. Intanto stamane nasce dalla volontà di creare un'ala moderata il nuovo gruppo Cesimes Fassariati, composto dalla consigliera Maria Caniglia, dal capogruppo Vincenzo Solombrino e da Luigi Zimbaldi, in seno però alla maggioranza dei magistris. Obiettivo? Dar voce alle periferie. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di diventare l'occhio di bue del programma del sindaco che guardava con attenzione alle periferie e cercare, quindi, di farle rifiorire e, soprattutto, di farle brillare come è giusto che sia. Se qualcuno dell'opposizione aderirà a questo gruppo, saprà bene che, comunque, noi stiamo con il programma del sindaco dei magistris. Se il sindaco vuole e ci vuole dare l'indicazione che vanno nella nostra direzione, siamo ben lieti di continuare questa battaglia politica per la città. Giocattoli fuori legge sono stati sequestrati dagli agenti del commissariato della Polizia di Stato, di Ariano Erpino, all'interno di due negozi gestiti da altre tante famiglie di nazionalità cinese. Macchine radiocomandate, monopattine, scooter, cubi magici, racchette, beach ball e altri prodotti ancora sono risultati sprovvisti della marchio CE. 260.000 pezzi tra giocattoli, dolci e altri articoli non sicuri perché in mancanza del marchio CE, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli in diversi interventi. In particolare, i finanzieri, in un primo intervento, hanno sequestrato quasi 200.000 giocattoli, auto, radiocomandate, bambole, lavagnette, telefonini e strumenti musicali. In un secondo intervento, in improvvisate bancarelle di dolci sul territorio provinciale e in alcune zone cittadine, sono stati sequestrati oltre 60.000 prodotti tra giocattoli, dolci e altri articoli non sicuri, oggetto di un decreto di ritiro dal mercato disposto dal Ministero della Salute perché contenenti materie plastiche pericolose ed elementi chimici in quantità superiori a quelli previsti dalla normativa. Inoltre, è stato controllato anche il regolare rilascio di scontrini ricevute fiscali, riscontrando che oltre il 70% è risultato irregolare. Tre persone sono state denunciate, mentre per altre tre è stata prevista la segnalazione amministrativa. L'operazione della Guardia di Finanza di Napoli è avvenuta nel quadro dei controlli sul territorio che sono stati incrementati a ridosso delle festività natalizie e che ha portato a importanti risultati. Il segretario regionale del Partito Democratico della Campania, Assunta Tartaglioni, ha presentato al segretario nazionale Matteo Renzi la lista dei democratici per le elezioni. Nella lista, quanto si apprende, ci sono i parlamentari uscenti, tranne Salvatore Piccolo, che ha deciso di non ricandidarsi, e anche Piero De Luca, figlio del governatore della Campania, che sarà candidato a Salerno. Tra i candidati presentati anche alcuni consiglieri regionali, tra i quali Raffaele Topo, Antonio Marciano, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, oltre a Franco Alfieri, capo della segreteria di Vincenzo De Luca, l'uomo del celebre caso delle fritture di pesce. Invece Paolo Siani, pediatra e fratello del giornalista Giancarlo, ucciso dalla Camorra, incontrerà Renzi per poi decidere sulla proposta di candidatura. Nel corso dell'incontro dai vertici del PD, sono state date alcune indicazioni, tra cui quella, secondo cui i consiglieri regionali dovrebbero essere candidati soltanto nell'uninominale, per mettere a frutto al meglio il radicamento sui territori. Sacchetti di rifiuti non prelevati, pericolo igienico e disordine. La tensione è alta ad Orta Diatella, dove i cittadini denunciano l'emergenza che non sembra facilmente recuperabile. Alla fine dell'anno, infatti, il servizio di raccolta è stato temporaneamente affidato al Consorzio Sinergie di Salerno, con l'obiettivo di sostituire il Consorzio Cite, titolare dell'appalto, che vuole la rescissione unilaterale del contratto. Nonostante l'intervento di un'altra ditta, a causa dei limitati mezzi impiegati, le strade di Orta Diatella continuano ad essere invase dai rifiuti. Un'emergenza non gestita adeguatamente, che non lascia sperare anche sul ripristino della normalità. Il clima è molto acceso nel comune, infatti, dove il 30 dicembre i gnoti hanno sfondato la porta d'ingresso della stanza del commissario prefettizio Vincenzo Lubrano, attualmente alla guida dell'ente. Un episodio che, secondo le forze dell'ordine, è da collegare al malcontento dei cittadini esasperati e dei 51 lavoratori che non hanno percepito lo stipendio. La situazione intanto resta complessa. Il Cite ritiene divantare un credito di circa 2 milioni di euro, mentre l'area tecnica del comune sostiene che il debito dell'ente sia di gran lunga inferiore e che non ci siano le condizioni per una rescissione unilaterale del contratto. Per il servizio, il comune spende circa 230 mila euro al mese, ma il risultato è che la raccolta differenziata subisce continue interruzioni per il ritardo frequente dei pagamenti, con un disagio notevole per i cittadini, che oltre alla beffa di una tariffa altissima, subiscono anche il danno delle strade piene di immondizia. Sta già per esaurirsi l'ondata di caldo anomalo che ha portato in città, come anche a Roma e a Palermo, a segnare il record delle temperature massime a gennaio. Negli ultimi 40 anni Napoli ha toccato ieri 21 gradi. Lo fa notare la climatologa e ricercatrice del CNR Marina Baldi, sottolineando che da domani le temperature torneranno ad abbassarsi. C'è anche un'allerta della protezione civile proprio in Campania per piogge anche intense in alcune zone. Infiltrazioni d'acqua e voragini che si aprono sul manto stradale e che portano a riduzione della viabilità e che fanno spaventare i cittadini. E' questa la situazione del quartiere Flegreo di Pianura a Napoli, dove le strade centrali vertono in condizioni disastrose. I cittadini chiedono interventi immediati a causa della situazione critica e di degrado, in cui si trovano via Trencia, via Montagna Spaccata e via Provinciale, dove anche camminare in strada è diventato poco sicuro. Il quartiere invivibile è sempre più rischioso, denunciano i cittadini, stanchi, di essere abbandonati a se stessi. Ascoltiamo il consigliere comunale Marco Nonno che propone. Pianura paga lo scotto di un mancato monitoraggio di tutte le fognature, di tutto il territorio di per sé. Io ho fatto più di una volta la proposta in consiglio comunale, ma sono dieci anni che la presento, di affidare alle dieci municipalità micro lotti per la manutenzione stradale e ordinaria dei quartieri. Soltanto con imprese locali che conoscono il territorio e che possono gestire direttamente un territorio in cui sono nate, si potrà avere un continuo monitoraggio che eviti questi cedimenti, questi smottamenti e questi problemi che sono ormai più che frequenti in questo quartiere. Ne assistiamo praticamente più di uno al giorno. È scomparso Gianni Filosa, storico cronista del Roma, da sempre impegnato negli organismi di categoria, in particolare a livello sindacale. I funerali si terranno domattina a portici presso la chiesa di Corso Garibaldi, l'ordine dei giornalisti della campagna, lo ricorda partecipando al dolore di familiari e amici cui noi ci uniamo come redazione di Televomero. Movimenti eleganti, pose suggestive e forti, filo conduttore, la fede. L'ottava edizione del calendario Scaramacai, che anche quest'anno vede protagoniste le ballerine della compagnia diretta da Ermina Sticchi, regista e coreografa, è stata presentata al Caffè Arabo in Piazza Bellini. La compagnia Scaramacai nasce nel 2005, è un'art factory multietnica per la diffusione della cultura che comprende artisti di vario genere e di varie nazionalità e che si propone di analizzare le problematiche sociali veicolandole tramite rappresentazioni artistiche ad alto impatto visivo ed emotivo. Nelle foto scattate da Alessandro Vitiello, rapporti diversi a volte contraddittori, ha spiegato la coreografa Ermina Sticchi, troppo spesso portatori di conflitti, anche se tutti parlano della stessa cosa, perché tutte le religioni al centro pongono l'amore e la ricerca del bene. In un momento storico così difficile di integrazione razziale mi sembrava duopo e logico poter parlare di un argomento che accomuna in realtà a tutti gli esseri umani, cioè la ricerca del divino, la ricerca del motivo della propria esistenza, che poi alla fine va sempre nella stessa direzione, al di là di come si chiami il nostro Dio. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, come sempre ci vediamo nelle prossime edizioni e arrivederci, vi ricordo l'indizio mail cui potete scrivere in redazione chiocciolatelemomero.it Grazie a tutti i nostri amici